Cosa? Che cosa significano? Questo è il mio destino. Il fuoco cremesi di Shashel. E questo riguarda il mio passato. Simboleggia Sinchichika, l'ultimo imperatore di Paititi. La sua tomba è nella città alta. Mi ci puoi portare? Raggiù è pieno di cultisti. Se c'è qualcosa, lo avranno sicuramente già individuato. Amaru non ha questo indizio. Non sa che cosa cercare. Ci saranno guardie dappertutto. Riusciremo a dividerle. Sarà pericoloso. Di sicuro. Allora non c'è tempo da perdere. Come stai? Bene. Mi ha aiutato a trovarti. Dovrebbe essere con un giù. La casata regnante è ormai decaduta e ridotta a un mero ruolo di facciata, mentre siamo noi a controllare effettivamente la città. La ragione per cui permettiamo loro di restare in una posizione di potere apparente è duplice. Da un lato ci permette di concentrarci sulla ricerca dello scrigno d'argento. Dall'altro serve a mantenere tranquilla la popolazione locale. Da sempre restia il cambiamento. Allora non c'è tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.